Ciao e benvenuto in questo nuovo video, io sono Federico Murero e oggi ti parlo dello stretching. Ne ho già parlato nel mio canale ma è un argomento talmente vasto e importante che ci tengo a sottolineare e a riportare sul canale. In realtà parlerò anche di stretching statico ma sarà una piccola parte di questo video, parlerò in generale dello stretching che comprende anche altre tipologie di stretching, non esiste solo lo stretching statico ma vi è anche uno stretching dinamico, uno stretching globale e il PNF. Ma quindi cosa sono tutte queste sigle, questi nomi? Sono tutte delle varie tecniche che vanno utilizzate con criterio quindi bisogna conoscerle per saperle utilizzare e come utilizzarle per ottenere il beneficio che ognuna di queste avrà. Per quanto riguarda ad esempio il PNF è una tecnica che è stata inventata durante il periodo di guerra dai Marines per rimettere in sesto i militari più in fretta possibile per poterli riportare al fronte. Questo è un aneddoto di uno dei miei prof, per questo che me lo sono ricordato. E in che cosa consiste? Il PNF è un tipo di stretching piuttosto particolare, un po' differente rispetto agli altri che poi analizzeremo. Il PNF prevede una contrazione attiva da parte dei muscoli agonisti che contraiamo e una decontrazione associata a una contrazione passiva, quindi un soggetto esterno andrà a fare leva sul muscolo target per allungarlo. Noi dobbiamo ricordarci che in questo caso il muscolo target è l'opposto di quello che si andrà a contrarre. Ad esempio noi stiamo andando a contrarre il quadricipite, siamo supini quindi distesi pancia in su, la testa noi la rivolgiamo di là e stiamo sollevando le nostre gambe. Le nostre gambe arrivano fino a un limite, solitamente per gli uomini è poco prima dei 90 gradi, le donne arrivano a 90 gradi perché hanno una flessibilità maggiore e da qui si inizia il ciclo di contrazioni e decontrazioni che ci permetteranno di arrivare a una maggiore mobilità del soggetto. In che modo? Vi sarà una spinta passiva da parte del soggetto che ci sta aiutando, che deve essere sempre una spinta progressiva effettuata in più secondi, non deve essere una spinta violenta. Perché? Perché noi abbiamo tutti dei propri cettori, degli organelli presenti nei muscoli e nei tendini che vanno a salvaguardare quella che è la loro integrità. Quindi se noi effettuiamo dei movimenti che sono bruschi, che sono troppo violenti, uno di questi due o entrambi andranno in protezione, causando dei problemi a livello di fibra muscolare, quindi contratture o alapeggio, strappi o lesioni tendine. Quindi prestando attenzione, il nostro soggetto che ci sta aiutando spingerà il nostro arto, noi contrarremo i quadricipiti, ok? Perché noi abbiamo detto che abbiamo la testa di là e successivamente lui cosa farà? Andrà a rilasciare. Rilasciando di qualche grado noi andremo a contrarre gli schiocrurali che sono la parte posteriore, della nostra coscia, sono tre muscoli, bicipite femorale, semi tendinoso e semimembranoso che ci permetteranno di ottenere un maggiore allungamento. In che modo? Noi ripeteremo questo ciclo fino a quando non saremo arrivati a una posizione di stiffness, quindi dove noi non riusciremo più ad andare oltre perché vi sarà un limite o dolorifico che deve essere sempre la soglia da non superare o un limite osteolegamentoso. In questo caso ci sono ad esempio le ossa del bacino che andando a toccare con il femore non ci permetteranno di andare oltre un certo grado. Anche perché poi per quanto riguarda lo stretching in generale avere troppi gradi di mobilità non è funzionale, quindi bisogna fare molta attenzione anche in questo caso. Bisogna ricercare la mobilità con lo stretching ma non bisogna andare sulla lassità perché se noi avremo una lassità a livello articolare otterremo solo l'effetto contrario, al posto che la mobilità otterremo un'articolazione che è fragile, quindi andrà rinforzata a livello muscolare. Perché? Perché se noi abbiamo un'articolazione estremamente mobile questa con il minimo impatto, la minima forza non espressa nel punto corretto andrà a spostare il capo articolare causando lussazioni. Prima di effettuare qualsiasi seduta di stretching noi dobbiamo essere consapevoli di quello che andremo a fare. In che senso? Qualsiasi azione andremo a fare sul nostro corpo avrà un risultato. Il nostro corpo è in realtà estremamente interconnesso con la nostra mente. Se noi non siamo tranquilli, non siamo rilassati, non controlliamo anche la nostra respirazione che anch'essa contribuisce al rilassamento del nostro corpo, avremo delle situazioni di rigidità, di contrazione dove non riusciremo a liberare completamente il nostro corpo. Inoltre le nostre funzioni esecutive, quelle che vengono definite funzioni esecutive, sono l'autocontrollo, l'inibizione cognitiva, la consapevolezza che il soggetto ha del proprio corpo, quindi anche la propria eccezione, sono fondamentali per andare a eseguire quelle che sono le azioni di stretching che spesso vengono trascurate completamente perché viste come un qualcosa di marginale. Ecco che però queste sono fasi da fare sì a fine allenamento ma vanno prese con la stessa intensità della parte centrale del lavoro, cioè noi non possiamo calare di attenzione perché rischiamo di andare a intaccare i nostri muscoli a lesionarli e potenzialmente infortunarci. Quindi quando va eseguito lo stretching? Lo stretching dinamico, quindi uno stretching che permette una serie di allungamento e accorciamento del muscolo, è molto utile per quanto riguarda la fase iniziale dell'allenamento perché subito dopo la prima fase di avviamento motorio si può avere una grande stimolazione a livello neurale per quanto riguarda poi il richiamo di pattern motori ad esempio per la corsa, lo stretching dinamico anche ad esempio nel nuoto è molto molto utile per stimolare sia i muscoli quindi con un microcircolo che si attiva quindi il microcircolo locale che si attiva per andare a aumentare la temperatura locale di queste zone ma anche per richiamare quelli che sono i pattern motori che si utilizzeranno. Per quanto riguarda lo stretching statico questo si divide in globale e analitico. Le due differenze si basano su il numero di gruppi muscolari che si vanno a ricercare. Lo stretching statico globale richiama più gruppi muscolari e ad esempio ci si posiziona con le gambe sul muro, si è supini sdraiati per terra e con i palmi delle nostre mani sopra la testa in questo modo a formare una Y otterremo quello che è una detensione, uno scarico per quanto riguarda la catena cinetica posteriore. Perché? Perché esistono delle teorie che sono validate da diversi articoli scientifici. La teoria delle catene cinetiche riguarda l'insieme di gruppi muscolari ad esempio della parte posteriore del nostro corpo dove si trovano diversi tipi di muscoli con anche diverse funzioni che però si è visto essere interconnessi e quindi una volta attivati completamente con queste posizioni permettono la loro detensione. Per quanto riguarda invece lo stretching statico analitico questo va a targettizzare un singolo distretto muscolare. Questo è il tipo di stretching più comune che si vede fare. Lo stretching ai quadricipiti, lo stretching agli schiocrurali o alla parte posteriore della schiena. Sono tutte delle posizioni isolate quindi si trovano delle posizioni che permettano di andare a colpire il muscolo target per allungarlo. Quando eseguire lo stretching statico? Lo stretching statico va eseguito a seguito dell'allenamento quindi una volta finito l'allenamento se riusciamo possiamo farlo subito appena finita la seduta di allenamento altrimenti si può anche aspettare di tornare a casa mangiare e iniziare la seduta di allenamento se non passa più di 30 minuti 40 minuti. In questo modo i nostri muscoli saranno ancora caldi avranno ancora l'elasticità che gli permette di allungarsi che poi sarà la componente che ci permetterà di migliorare il nostro rom. Il rom cos'è? È il range of motion che indica la quantità di gradi che ha la nostra articolazione, l'ampiezza dei nostri movimenti. Durante la seduta di stretching noi dobbiamo rilassarci, dobbiamo pensare alla respirazione, inspirare in modo controllato ed espirare in modo controllato perché questo avrà un'incidenza sui fusi neuromuscolari e sugli organi muscolo-teldino del Golgi. La respirazione è fondamentale perché avrà diretta conseguenza sugli organi muscolo-teldino del Golgi e fusi neuromuscolari, due propri cettori che insieme a molti altri inviano i segnali al nostro cervello sul grado di ampiezza e sul grado di stiramento dei nostri muscoli e dei tendini. Proprio per questo motivo, per i fusi neuromuscolari e per gli organi muscolo-teldino del Golgi, si devono evitare i movimenti di fuga o evasione. Cosa si intende per movimenti di fuga o evasione? Sono quei movimenti che si attuano quando c'è stato un allungamento troppo repentino, troppo velocemente. Quindi il nostro muscolo cosa fa? Va in protezione, va a contrarsi e questo può causare infortuni. Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione in questi casi, scendere gradualmente fino a raggiungere la posizione dove sentiremo un lieve dolore che non deve acutizzarsi, non deve diventare un grande dolore, altrimenti anche in quel caso non va assolutamente bene. Noi dobbiamo quindi scendere in 5-6 secondi, rimanere nella posizione per dai 15 ai 30 secondi, questo è quello che la letteratura scientifica suggerisce, e poi risalire alla posizione iniziale in sempre 5-6 secondi. Quindi quali sono gli adattamenti che lo stretching ci permette di ottenere? Gli adattamenti sono principalmente due, il miglioramento della nostra rigidità, lo stiffness, e il miglioramento del creeping. Il creeping sarebbe l'ampiezza del nostro muscolo. Sul creeping si lavora sulla componente tendinea, quindi anche sull'allungamento per quanto riguarda il tendine, e per quanto riguarda invece lo stiffness si lavora soprattutto sul muscolo, quindi la rigidezza della fibra, si dice, extrafusale. Per quanto riguarda questo video è tutto, spero ti sia stato utile e informativo, se così fosse scrivilo nei commenti, se hai qualche consiglio scrivi nei commenti. Ti ricordo di seguirmi inoltre sugli altri social, quindi Strava, Facebook, Instagram o TikTok, dove pubblico dei contenuti differenti rispetto a quelli che metto sui video di YouTube. Lascia un like se ti è piaciuto il video. Noi ci vediamo al prossimo. Buoni allenamenti!